Se hai paura di volare e dei fantasmi, non guardare questo video. La storia del volo 401 è una delle più spaventose ed inquietanti che ci sono in giro. Una vera e propria catastrofe, diventata leggenda, e le sue conseguenze sono ancora oggi oggetto di studi. Anche i più scettici si rendono conto che l'intera faccenda del volo 401 è qualcosa di più di un normale incidente aereo. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e di allacciare le cinture, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Questa vicenda ragazzi è così scioccante che ha fatto riflettere molti scettici, me compreso. È a dir poco assurda e allo stesso tempo molto molto interessante. Se siete dei masochisti a cui piace avere incubi o svegliarsi nel cuore della notte, questo file fa per voi. Vi giuro che più penso a questa storia e più mi vengono domande. Ma ora la smetto di blatterare e inizio anzi a far venire le domande anche a voi. In questo momento avrei voluto accendere una candela con dei fiammiferi davanti a voi, solo che non ho candele. Mi son dimenticato di prenderle. Quindi ricordatemelo qua sotto, prendi ste cazze di candele Andrea Madonna. Tutto ha inizio un giorno normalissimo nell'aeroporto internazionale del Queens, a New York. È il 29 dicembre 1972. Sono le 20 e 30 circa e molti passeggeri stanno salendo a bordo del volo 401. Si tratta di un volo della compagnia Eastern Airlines, destinazione la bellissima Miami. Ci sono in totale 176 passeggeri a bordo, inclusi 13 membri dell'equipaggio. Tutti stanno ultimando i preparativi prima del decollo. Ogni cosa procede con assoluta regolarità. Diciamo che quel giorno i passeggeri hanno fatto decisamente un buon acquisto, se consideriamo le ottime condizioni dell'aereo su cui sono saliti. Per farvi capire, l'aereo del volo 401 è immenso. Un modello gigantesco e all'avanguardia per quei tempi. Nello specifico si tratta del modello Lockheed L1011 Tristar. Un mostro di potenza e comodità. È un maestoso velivolo di metallo che può contenere fino a 400 passeggeri. La larghezza gli permette di avere otto posti per fila e, come se non bastasse, è composto da due piani. Il primo è quello dei posti, come abbiamo visto, molto spazioso, confortevole già di base, con tanto di prima classe. Il secondo piano, o secondo livello, è forse il vero lusso di questo aereo. È accessibile solo al personale tramite due piccoli ascensori, che portano in una zona con cucina, dei forni, dei ripiani e vari frigoriferi. Sempre in questo secondo piano c'è una lounge area riservata al personale di bordo. È un luogo molto spazioso e abbellito di tutto punto. Insomma, una vera sciccheria. Una piccola nave da crociera a volante, se possiamo dire. Il pilota quel giorno è un uomo di nome Bob Loft, un uomo di 55 anni con un totale di 30.000 ore di esperienza di volo. Quindi cazzo, tante. È un uomo che ha vissuto solo di questo mestiere, praticamente. Un uomo che trasuda sicurezza e professionalità da tutti i pori. Molti lo conoscono e confermano le sue abilità. Lo trovano anche spiritoso, un capo perfetto e un'ottima persona. Quella sera, prima della partenza, è salito a bordo dell'aereo e si è diretto nella cabina di pilotaggio. Come di consueto, ha iniziato tutti i preparativi della partenza. Si è seduto al lato sinistro della cabina e ha accolto il suo copilota. Questo è un uomo di 10 anni meno di lui e si chiama Bert Stockstill. È il vice del capitano Bob e anche lui non è certo uno sprovveduto in termini di professionalità. Ma il personale nella cabina di pilotaggio non è ancora finito. Essendo un aereo molto grande, in quella cabina servono sì il pilota e il copilota, ma anche altri due membri che stanno dietro a Bob e Bert. Questi sono il 51enne Don Repo e il 47enne Angelo Donadeo, italiano. Il primo, Don, è un ingegnere di volo di carattere molto pacato nonostante la sua enorme stazza e quella sera si è seduto dietro il copilota Bert. Il secondo, Angelo, si è invece sistemato dietro il capitano Bob. E qui devo dirvi un dettaglio molto particolare. Angelo Donadeo in realtà non era destinato a quel ruolo per quella notte, ma dato che doveva recarsi a Miami, cioè la destinazione di quel volo, la compagnia ha accettato di farlo salire a bordo. Quindi, tutto chiaro, no? Da come ve l'ho descritta sembra una situazione normalissima. Abbiamo un aereo stupendo, molti passeggeri, quattro persone a comando con una certa esperienza, cioè, sembra davvero assurdo che, nonostante tutto, le cose siano andate nel peggiore dei modi. Con i quattro al comando, seduti ognuno nelle proprie postazioni, i preparativi del decollo vengono effettuati senza alcun intoppo. I passeggeri sono accomodati, anche loro pronti per la partenza. Il capitano Bob ha il comando principale dell'aereo ed effettua i passaggi necessari prima di alzarsi in aria. Poi, finalmente, si parte. Il decollo va a gonfie vele e l'aereo del volo 401, in rotta per Miami, parte alle 21.20 precise. Sto volando i cieli di New York in direzione sud, il viaggio procede senza alcun tipo di problema, per due ore di fila. Le cose vanno così bene che uno dei passeggeri si mette addirittura a scrivere una lettera da indirizzare alla compagnia. In questa lettera si complimenta dell'ottimo lavoro e delle perfette condizioni di quella tratta. Ma se tutto fosse andato così bene, io di certo non sarei qui a parlarvene. Infatti quella lettera non arriverà mai alla compagnia. Anzi, niente sarà così tranquillo d'ora in poi. I problemi iniziano a verificarsi alle 23.32. L'aereo si trova praticamente nei pressi dell'aeroporto di Miami, ma quando il capitano Bob si sta avvicinando a destinazione, nel momento in cui abbassa il carrello delle ruote, il suo vice Bert gli fa notare che qualcosa non va. Vi spiego. In tutto ci sono tre carrelli da abbassare e ognuno di questi corrisponde ad una luce verde sulla cabina di pilotaggio. Bert nota che solo due di quelle luci si sono accese, il che vuol dire che un carrello sembra non funzionare. Inutile dirvi che questo è un grosso problema, perché se i carrelli non si abbassano, c'è il rischio di schiantarsi al suolo. Perché anche se ne manca solo uno, gli altri due non riescono a reggere l'enorme peso dell'atterraggio. Cioè, parliamo di un aereo gigante. Il capitano Bob, comunque, non pensa che ci sia un difetto al carrello. Piuttosto, crede che sia la luce corrispondente a non funzionare. Cioè, gli sembra troppo strano che quel modello, arrivato da poco, nuovo di zecca, controllato più e più volte prima, abbia un difetto proprio al carrello, cioè che è un elemento fondamentale. E in effetti sarebbe piuttosto strano. Trova più credibile l'idea che sia la lampadina ad avere qualche problemino. Un contatto, una piccola malformazione, qualcosa di poco conto, insomma. Anche se fosse, essendo un aereo nuovissimo, forse ha solo un piccolo intoppo. Per cui Bob cosa fa? Praticamente tira di nuovo su il carrello in questione e subito dopo lo spinge di nuovo giù. Lo fa per assicurarsi che se fosse davvero stata la luce a non funzionare, il carrello sarebbe comunque sceso. Se invece fosse stato un problema del carrello, non sarebbe sceso. Però Bob era sicuro che fosse il problema della luce. E a questo punto sono già vicini all'aeroporto di Miami, ma essendoci ancora del tempo, provano a risolvere questa cosa. Eppure il problema si ripresenta. La luce di quel carrello non si accende. Non va giù. Quindi non si può atterrare. Per quanto assurdo, Bob si rende conto che non può mettere a repentaglio la vita di tutti. E prima di fare qualcosa di azzardato, contatta l'aeroporto di Miami per informare lo staff del problema. Gli suggeriscono quindi di volare in tondo lì vicino, finché fosse riuscito a risolvere. Precisamente gli consigliano di sorvolare una zona paludosa della Florida chiamata Everglades, poco distante da Miami. In questo modo il velivolo non sarebbe stato intralciato dagli altri aerei. E Bob avrebbe avuto il tempo di controllare meglio tutta la situazione. Quindi il capitano e il suo vice impostano il volo automatico intorno a Everglades e fanno in modo che l'aereo continuasse a girare in tondo senza fermarsi. Ma la scena è abbastanza preoccupante dal punto di vista dei passeggeri, perché l'aereo ha iniziato a girare in tondo su una palude alla velocità di 300 km orari e a circa 600 metri da terra. Io già qui mi sarei cagato addosso, anzi attacco di panico istantaneo. Comunque Bob e Bert proprio non riescono a capire cosa non vada. Quella maledetta luce continua a non funzionare. Provano ad accenderla e a spegnerla, poi tolgono proprio il pannello per soffiarci dentro. Le provano davvero tutte. Ma sembra che non funzioni nulla. Sono quindi tutti davvero frustrati e iniziano seriamente a preoccuparsi. A questo punto pensano davvero che quel carrello non funzioni proprio. Perciò Bob non sa più che cosa fare. Si gira verso Don e Angelo, i due aiutanti, se così possiamo dire, e ordina a Don, l'ingegnere di volo, di andare a controllare di persona, fisicamente, quale fosse il problema. Quindi l'uomo scende al di sotto della cabina di pilotaggio in un punto in cui si riesce a vedere il carrello anteriore. Quello che sembra difettoso. Quindi la situazione, come capite, non è certo delle migliori, ma è ancora tutto relativamente calmo. Forse i passeggeri si sono resi conto di non essere ancora arrivati, ma le hostess avranno cercato di tranquillizzare tutti, sicuramente. In effetti non sta ancora succedendo niente di male e bisogna mantenere i nervi saldi per capire come atterrare a Miami. Io ripeto, me ne sarei accorto perché in aereo ho sempre un'ansia allucinante. Anzi, come dice un mio amico, Mamma mia che ansia terribile, oh. Comunque, mentre Don è giù nella botola sotto la cabina per controllare il carrello, sotto l'aereo, per terra, sta succedendo qualcosa. Sul suolo delle Everglades ci sono due persone su un idroscivolante, che sarebbe questa sorta di barca che a volte si vede nei film americani. E appunto a bordo di questa roba, due persone sono a caccia di rane. Boh, a quanto pare la gente fa anche questo. In particolare sono il 43enne Robert Marquis e un suo amico di cui non sono riuscito a trovare il nome. È buio pesto e Robert e il suo amico a bordo di quel mezzo non vedono assolutamente nulla. Fanno un po' di luce con delle torce che hanno in testa, ma non è che servano a molto. Perché per chilometri e chilometri le Everglades sono avvolte dal buio della notte e proprio non riesco a capire perché fossero lì. Cioè, davvero la gente va a caccia di rane? Tra l'altro, mentre questi due sono lì, sentono solo i versi lontani degli animali nascosti nella palude. Uno scenario per me abbastanza inquietante, ma è quando alzano gli occhi al cielo che diventa inquietante anche per loro. Vedono una forte luce arancione che scoppia in un voato terribile, come un tuono improvviso e inaspettato. Robert e il suo amico si spaventano decisamente e mantengono lo sguardo fisso al cielo. Ma proprio come è apparso, quella specie di lampo arancione svanisce. Di colpo torna il silenzio e tornano anche i lontani versi degli animali notturni delle Everglades. Robert e il suo amico sono a dir poco scioccati perché erano tranquilli e confortati dal silenzio fino a qualche secondo prima. Non potevano immaginare di assistere ad un evento così bizzarro. Quindi, parlandone un po', ancora scossi da quello che avevano visto, lasciano perdere la loro caccia alle rane, finalmente, e decidono di andare nella direzione da cui proveniva quella strana esplosione. Vogliono capire cosa hanno visto. Ripartono quindi a razzo con il loro idrocivolante, navigando per le Everglades per 15 minuti buoni e facendo lo slalom tra i corsi d'acqua stretti in quella valle totalmente oscura e immensa. Riescono così ad arrivare in prossimità di quel lampo e non riescono a credere a quello che vedono. Prima che si vedesse quello scoppio, proprio pochi minuti prima, nell'aereo del volo 401 sono successe tre cose, una più terribile dell'altra. La prima è la disattivazione involontaria del pilota automatico. L'aereo stava sorvolando le Everglades con dei moti circolari all'altezza di 600 metri. Si pensa che il capitano Bob, nell'esatto momento in cui si era voltato verso donne per chiedergli di andare a controllare il carrello, avesse premuto qualcosa con la gamba, qualcosa che ha permesso all'aereo di non andare più come programmato. Il velivolo sembra quindi essere tornato a guida manuale, ma senza che il capitano se ne rendesse conto. La seconda cosa tragica accaduta è forse una delle più gravi e devo spiegarvela un po' meglio. Nessuno in quel momento, tra i passeggeri e tra i membri della cabina di pilotaggio, si è reso conto di star praticamente precipitando. E voi direte, ma com'è possibile? Beh, da quello che è emerso, pare che quella notte fosse impossibile vedere chiaramente il circondario. Le Everglades sono paludi, terre naturali su cui non è mai stata posta nessun tipo di luce artificiale. La luna in quel momento non era neanche visibile, per cui, attorno all'aereo, nessuno poteva vedere assolutamente niente. Togliendo per sbaglio il pilota automatico, senza però manovrare, perché erano convinti fosse ancora inserito, l'aereo ha intrapreso una graduale discesa verso terra. Una discesa molto lenta, per cui sia fuori che dentro non si sentiva affatto il rumore o la sensazione della caduta. L'aereo del volo 401 era così silenzioso da non riuscire a sentirlo. La terza cosa è la più triste, ma è il dettaglio fondamentale. Bob e il suo vice Bert, in quei minuti, si sono fissati su quella luce. Erano talmente frustrati e attenti a quella spia che non solo non hanno visto che l'aereo stava cadendo, anche perché era notte e non si poteva vedere, ma non hanno nemmeno sentito l'allarme del sistema, quello che li avvisava di essere troppo giù di quota. La spia in questione ha suonato una sola volta e neanche ad un volume così alto. Così, semplicemente, non se ne è accorto nessuno. Quindi, per concludere, mettiamo tutti questi fattori assieme e possiamo solo immaginare la paura, l'orrore di Don, l'ingegnere di volo, che è sceso sotto la cabina per controllare il carrello. È proprio lì, infatti, che si è reso conto di star precipitando. In pochi istanti, un lampo arancione brillò nel cielo. L'aereo del volo 401 è precipitato nelle Everglades. Ma ora torniamo ai nostri Robert e il suo amico. Quello che si trovano di fronte è uno spettacolo raccapricciante. Il luogo del disastro non è visibile al 100%. Il terreno fangoso e morbido della palude ha permesso all'aereo di schiantarsi in un modo meno violento del solito. Persino il fuoco dell'impatto si è spento quasi subito, proprio a causa dell'umidità del luogo e dell'acqua tutto intorno. Per cui, immaginiamo quello che Robert ha davanti a sé. Il buio più totale con alcuni punti infuocati. Il tutto accompagnato dalle urla strazianti delle persone e dai loro pianti isterici. Oltre a questo però c'è anche un dettaglio davvero agghiacciante. Tutto intorno i due riescono a vedere pezzi di corpi umani sparsi un po' ovunque e sentono un odore insopportabile. Più vanno avanti tra quelle acque ormai infestate e più si rendono conto che la situazione è davvero tragica. Ci sono cadeli disseminati ovunque. Alcuni sono morti intrappolati da macerie, altri sono vivi ma hanno perso delle parti del corpo. I due rimangono sorpresi dal fatto che in realtà ci sono tantissimi sopravvissuti in condizioni pietose ok, ma ci sono. Il primo che incontrano nel loro cammino è un uomo con i vestiti in fiamme che urla dal dolore. Questo sopravvissuto è rimasto intrappolato nel suo sedile sommerso da centimetri e centimetri di fanghiglia e impossibilitato a muoversi. Cioè, è mezzo sommerso nel suolo. Il sopravvissuto con ancora un occhio fuori dal fango guarda Robert supplicandolo di aiutarlo. Quindi lui e suo amico si buttano dall'idrocivolante e iniziano a tirarlo fuori e per fortuna riescono a liberarlo completamente. Subito dopo però sentono altre voci, gente che urla supplicando aiuto persone disseminate dappertutto. È impossibile per loro vederle tutte. Avevano solo quelle lucine sulla testa. Cioè, immaginate il panico in quel momento. Robert e il suo amico infatti fanno quello che possono per aiutare tutti i feriti e in loro soccorso dopo circa mezz'ora arriva anche la guardia costiera con elicotteri e personale medico. Per tutta la notte quella notte nessuno ha chiuso occhio. Tutti si sono dati da fare per salvare i superstiti e portarli in salvo. Robert e il suo amico sono stati degli eroi perché sono rimasti lì tutta la notte a dare una mano ai soccorritori, a sorgere del sole e aggiungerei finalmente non c'è più nessuno da salvare. Rimane solo da capire cosa è successo, perché e come. Arrivano quindi delle informazioni molto importanti. 99 persone sono decedute e 77 sono invece sopravvissute. Tra i morti ci sono purtroppo il capitano Bob Loft, il vice Bert Stockstill e l'ingegnere di volo Don Repo. Il quarto membro della cabina di pilotaggio Angelo Donadeo è sopravvissuto. Ironia della sorte se ricordate non doveva nemmeno essere in quel volo ed è stato l'unico di quella cabina a sopravvivere. È grazie a lui che sappiamo come sono andate le cose. Ora però tenetevi forte perché quello che sto per raccontarvi è davvero assurdo e personalmente mi ha scioccato quando l'ho letto. Pensate che appena sono state avviate le indagini si è scoperto che il carrello difettoso in realtà funzionava perfettamente. Bob quindi aveva ragione era solo la lampadina che non funzionava. Questo vuol dire che potevano tranquillamente atterrare a Miami si poteva evitare tutta questa tragedia una tragedia scaturita da quello che è stato poi definito come un errore umano. Sinceramente non oso immaginare la reazione dei familiari delle vittime. Pensate di essere il fratello il cugino il marito o la moglie di qualcuno a voi caro qualcuno squarciato in due letteralmente da un disastro aereo evitabilissimo. Cioè per una lucina che non funzionava ragazzi come vi sentireste? Non so voi ma io ho i brividi ragazzi i brividi e appunto a partire da questo disastro la compagnia ha fatto di tutto per risarcire le famiglie delle vittime ha effettuato anche dei cambiamenti nell'addestramento di volo e ha corretto e modificato le norme affinché un disastro come questo non si verificasse mai più. E questa sarebbe la fine della storia in teoria ma se avete visto quanto manca alla fine di questo video probabilmente avete anche capito che questa non è per niente la fine non vi ho ancora raccontato una cosa fondamentale cioè il motivo per cui il volo 401 è diventato così conosciuto a partire da quella catastrofe per ben tre anni consecutivi si sono verificati dei fenomeni agghiaccianti nei tre anni successivi molte persone nella compagnia Eastern Airlines la stessa del volo 401 hanno vissuto delle situazioni al limite dell'assurdo e in questi tre anni chiunque avesse anche solo osato fare cenno a questi fenomeni semplicemente o veniva mandato da uno psichiatra o addirittura licenziato la compagnia ha preteso un silenzio assoluto da parte di tutti i dipendenti capi compresi nessuno per molto tempo ha avuto l'autorizzazione di poter anche solo far notare che stava succedendo qualcosa di inquietante i dipendenti ovviamente ne parlavano tra di loro ma sotto voce per non farsi scoprire queste voci erano diventate una sorta di segreto di pulcinella c'è qualcosa che tutti sanno che tutti stanno vivendo ma che si vuole tenere nascosto e i dipendenti della compagnia non potevano fare nulla né per capire né per fermare questo casino e se ci pensiamo è strano che venisse imposto un silenzio del genere forse la compagnia non voleva ripercussioni sulle vendite e ok ma la situazione sembrava esagerata agli occhi di tutti era stato un incidente poteva capitare e ormai in ogni caso era di dominio pubblico infatti alcuni dipendenti coraggiosi hanno fatto sentire la loro voce attraverso la stampa ma in maniera anonima ovviamente per paura di perdere il lavoro o chissà cos'altro queste persone hanno fornito due resoconti dettagliati di questi fenomeni e si tratta di due testimonianze che hanno fatto gelare il sangue a tantissime persone sono situazioni che i diretti interessati quelli che le hanno vissute non potevano più tenere segrete il mondo doveva sapere cosa stava succedendo dopo il disastro del volo 401 i nomi che vi dirò non sono quelli veri sempre per quel discorso sull'anonimato ma sentite queste due testimonianze partiamo con la prima nel marzo del 1973 un assistente di volo di nome Ginny è stata assegnata in un volo da New York a Fort Lauderdale in Florida tra l'altro non so se ricordate ma Fort Lauderdale è il posto in cui Grant Amato si era fatto ricoverare per la sua ossessione per il porno ne ho parlato qualche video fa quindi se non l'avete visto ve lo lascio qui da qualche parte così potete vederlo subito dopo questo video se non vi sarete ancora stancati di me anche quella è una storia allucinante comunque insieme a Ginny c'è una sua amica e collega di nome Denise nessuna di loro due è stata coinvolta nel volo 401 ma come tutti ne avevano sentito molto parlare quel giorno in cui stanno lavorando insieme Ginny e Denise sono sul volo 318 e si trovano a bordo dello stesso modello del volo catastrofico un altro Lockheed L1011 Tristar oltre a questo l'aereo in cui si trovavano Ginny e Denise il volo 318 conteneva delle parti fisiche dell'aereo schiantato praticamente quando quell'aereo del volo 401 si è schiantato la compagnia è riuscita a recuperare dei pezzi ancora funzionanti una volta attestati e messi a nuovo sono stati inseriti in altri aerei esattamente come in questo caso e forse questo potrebbe sembrarvi strano ma parliamo di pezzi d'aereo costosissimi e la compagnia vedendone il buono stato ha deciso solamente di risparmiare centinaia di migliaia di euro per cui sul volo 318 Ginny e Denise stanno lavorando tranquillamente Denise è in mezzo ai passeggeri per prendere le ordinazioni ma una volta finito questo scende al secondo piano dell'aereo quello dove ci sono le cucine i forni i frigoriferi e si mette ad aiutare la sua collega Ginny che era già giù a cazzeggiare nella lounge ironicamente però succede questo Denise usa l'ascensore per scendere al secondo piano e nello stesso momento Ginny sta prendendo l'altro ascensore per andare al primo piano proprio per andare a cercare la sua amica Denise quindi le due donne si stanno cercando a vicenda e si sono incrociate in due ascensori diversi senza effettivamente incontrarsi quando Ginny è arrivata su tra i passeggeri per cercare Denise gli altri colleghi la informano che è scesa giù proprio per cercarla a sua volta allora Ginny dopo un po' torna all'ascensore per scendere ancora una volta al piano di sotto pensa di andare nella lounge sicura di trovare Denise oppure in cucina cioè sarebbe stata o lì o nella lounge da quello che ho capito però la cucina è stretta e non c'è modo di vedere la lounge da lì cioè dalla cucina bisogna proprio affacciarsi per vedere se c'è qualcuno nell'altra sala nella lounge dalle foto che ci sono online quest'area a riposo è davvero figa sembra molto confortevole comunque Ginny scende ancora una volta per cercare Denise e una volta aperte le porte dell'ascensore non la vede allora pensa che la sua amica si sia recata alla lounge ma non riesce a vedere se c'è qualcuno lì dalla cucina cioè dalla porta lì dov'è non vede la lounge non so se mi sto spiegando quindi sicura che Denise si trovasse nella stanza accanto non la chiama né entra per vedere se fosse davvero lì si mette quindi a preparare il cibo ordinato dai clienti voltando lo sguardo di tanto in tanto verso la porta della lounge giuro la smetto di dire lounge ancora una volta sicura della presenza di Denise al suo interno passano però i minuti e Ginny si aspetta che da un momento all'altro Denise sarebbe uscita da quella stanza ma non lo fa non esce nessuno dalla lounge quindi pensa che la stia prendendo in giro perché sa che c'è qualcuno lì e deve essere per forza lei altrimenti chi potrebbe esserci al piano inferiore Ginny pensa che Denise si sia nascosta da qualche parte magari proprio in cucina forse in qualche armadietto in ogni caso è sicura al 100% di non essere sola e se Denise era scesa prima di lei per cercarla era sicuro che si trovasse ancora lì altrimenti l'avrebbe vista l'avrebbe incrociata da qualche parte i minuti però passano e Ginny inizia a percepire sempre di più una sensazione di paura sa di non essere sola lo percepisce sulla sua pelle quindi smette di preparare il cibo e inizia a guardarsi intorno sicura che Denise sarebbe saltata fuori da qualche parte per spaventarla ma non c'è nessuno il cuore della ragazza batte sempre più forte si sente minacciata da qualcosa che non sa spiegare determinata ad uscire da questa strana situazione apre la porta della lounge e guarda velocemente al suo interno sorpresa non c'è nessuno quindi entra effettivamente e guarda dappertutto cercando Denise in ogni angolo ma quella spiacevole sensazione si fa sempre più pressante è come se fosse circondata da qualcosa che non può né vedere né toccare una volta terminata questa disperata ispezione si rende conto di essere nella zona più remota della stanza è sola spaventata e non sa dove sia la sua amica appoggia la schiena sul lato sinistro del muro così da essere sicura che nessuno fosse dietro di lei lo faccio anch'io quando ho paura ma forse nel caso di Ginny qualcuno o qualcosa era davvero lì con lei spaventata ma cauta decide di muoversi lungo il muro per tornare in cucina arrivata lì nota che non c'è nessuno e inizia a premere ripetutamente il pulsante dell'ascensore con una grande ansia guardandosi indietro e assicurandosi di non essere seguita o osservata riesce finalmente a tornare su una volta arrivata uscendo dall'ascensore quasi cade per terra addosso ad un'altra collega che chiameremo Mildred Mildred vede il suo volto e nota che è completamente pallido la vede spaventata sudata tremante le chiede quindi cosa fosse successo e la ragazza non riesce a spiegarlo subito dopo Mildred le dice tipo vieni con me e le due si dirigono in una zona dietro gli ascensori lì c'è Denise ed è pallida spaventata esattamente come Ginny sembra una strana e curiosa coincidenza ma pare che Denise avesse vissuto la stessa identica situazione della sua amica solo pochi istanti prima ancora una volta quindi per pochissimi minuti non si erano beccate ma entrambe avevano avuto la stessa identica esperienza entrambe hanno sentito che qualcosa non andava là sotto e per questo motivo hanno deciso di parlarne ma questa non è l'unica testimonianza anzi questo è solo un assaggio di quello che è successo dopo un mese dopo l'evento inquietante di Ginny e Denise lo stesso volo 318 si trova all'aeroporto Newark Liberty del New Jersey siamo al momento dei controlli pre-volo da parte dell'equipaggio prima pensate un po' di decollare per Miami la stessa destinazione del volo 401 in questo volo non ancora partito i passeggeri vengono fatti accomodare gli assistenti di volo controllano il numero dei passeggeri per vedere se sia tutto a posto ma uno di loro si accorge che il conteggio è più alto di quello che sarebbe dovuto essere allora la sorella di questo assistente il cui nome non è stato divulgato ha contato di nuovo i passeggeri ed è arrivata fino alla prima classe proprio lì ha trovato qualcuno di strano si trattava di un uomo vestito da capitano completamente assorto nei suoi pensieri fissava un punto fermo davanti a sé rigido impassibile non curante la sorella dell'assistente lo nota e dalla sua uniforme capisce che non si tratta di un vero e proprio passeggero o meglio sì cioè mi spiego in quegli anni alcuni piloti usavano i voli di alcuni colleghi per recarsi in altri aeroporti e il personale non veniva sempre avvisato prima di questa cosa per cui questa ragazza una volta visto l'uomo ha semplicemente pensato che si trattasse proprio di questo di un capitano diretto a Miami per lavorare su un altro volo diciamo che stava sfruttando un passaggio ecco così lei una volta finita la conta dei passeggeri gli si avvicina per chiedere giustamente qualche informazione gli chiede il suo nome per assicurarsi che si trattasse effettivamente di un pilota e non di un infiltrato ma questo silente capitano chiamiamolo così non risponde e anche i passeggeri della prima classe lì vicino notano che l'assistente di volo sta cercando di comunicare con lui però da parte sua non arriva nessuna risposta rimane fermo con lo sguardo fisso davanti a sé senza prestare alcuna attenzione alle domande della signora dopo un paio di tentativi il fratello di questo assistente viene in suo soccorso e i due insieme provano a fargli altre domande ma lui continua a non rispondere ancora l'aereo non è in moto per cui provano a disturbare il loro superiore il capitano del volo 318 vogliono vedere se almeno lui fosse in grado di smuovere questo signore quindi il capitano di questo volo si alza va in prima classe e vede l'altro capitano quello fermo e muto si china verso di lui e lo guarda dritto negli occhi nel frattempo almeno sei passeggeri hanno gli occhi fissi verso di loro sono curiosi cioè cavolo è strano ma appena il capitano guarda negli occhi quel signore taciturno sobbalza e dice ma questo è Bob Bob se vi ricordate era il capitano del famigerato volo 401 e il capitano invece di questo volo il 318 lo ha riconosciuto subito perché lo conosceva bene erano amici prima del disastro per cui è sicuro che quello davanti a lui è Bob ma sentite cosa succede adesso appena viene riconosciuto Bob si volta dall'altra parte e sotto gli occhi di tutti svanisce nel nulla i sei passeggeri che hanno visto tutto si mettono ad urlare spaventati sembra davvero incredibile assurdo che sei persone più assistenti di volo e un capitano avessero visto scomparire una persona davanti ai loro occhi viene subito allertata la sicurezza setacciato tutto l'aereo e le zone circostanti ma non viene trovato nessuno il volo poi dopo mille fatiche è decollato ed è arrivato sano e salvo a destinazione ma queste apparizioni e sparizioni non si limitano a quella del capitano Bob nel corso degli anni tutti gli aerei del modello Lockheed L-1011 Tristar con dentro parti del volo 401 hanno registrato fenomeni simili alcuni dicono di aver visto anche l'ingegnere di volo Don Repo anche lui deceduto nel volo 401 lo hanno visto bussare dalla botola che porta i carrelli cioè il luogo in cui durante l'incidente si è reso conto che stavano precipitando altri hanno visto di nuovo Bob apparire ancora in silenzio e immobile per poi smaterializzarsi e questa cosa avveniva davanti ai loro occhi sono davvero tante le testimonianze ma queste due sono le prime insomma quelle che hanno aperto la strada a tutte le altre la cosa davvero raccapricciante ragazzi è che come ho detto prima è stato fatto di tutto per insabbiare ogni cosa i primi che hanno visto Bob per esempio hanno scritto tutto su un rapporto ne hanno parlato con colleghi e sottoposti e in poco tempo tutti sapevano di questa cosa ma ai piani alti ad un certo punto hanno deciso che quei tre non avevano visto Bob che non era vero niente che era tutta una grandissima cazzata e quel rapporto è stato fatto sparire nessuno sa dove sia cioè materialmente non si trova sappiamo i dettagli di questa vicenda grazie ai pochi coraggiosi che hanno sfidato la compagnia e hanno divulgato le loro storie che crediate o meno nel paranormale è chiaro che questa situazione sia quantomeno strana quel disastro aereo ha fatto del male a moltissima gente comunque possiamo anche pensare che sia tutto falso cioè ipotizziamo che la parte paranormale sia stata inventata dai dipendenti ecco ci sta che magari dopo il disastro del volo 401 abbiano voluto protestare contro la compagnia inventandosi quindi queste storie ma la cosa assurda è che non sono stati solo i membri dell'equipaggio a vedere o sentire questi fenomeni anche alcuni passeggeri hanno testimoniato è possibile pensare che tutti loro siano stati corrotti siamo sicuri che è tutto quanto inventato tutto possibile per carità ma sembra davvero troppo strano non lo so io sono il primo ad essere scettico ma in questa situazione almeno in teoria nessuno avrebbe guadagnato niente specialmente perché sono rimasti anonimi quindi perché farlo perché inventarsi tutto non avrebbe molto senso alla fine comunque queste apparizioni spaventose cessarono del tutto ma a partire da un momento specifico cioè quando la compagnia ha rimosso dai suoi Lockheed L-1011 Tristar tutte le parti del volo 401 in questo modo come sono iniziate le apparizioni sono cessate coincidenza anche questa? bene non so voi ragazzi ma io non prenderò mai più un aereo in vita mia scherzo o forse no comunque ragazzi la storia di oggi finisce così ma prima solo per i pochi affezionati che rimangono fino alla fine devo rivelare una cosa nelle prossime settimane parleremo di donne che hanno avuto una vita particolare diciamo così si tratta di due storie diverse che tratterò in due video diversi ma sono una più inquietante dell'altra quella del prossimo venerdì è assurda cioè parleremo di una pazza in cù che ad un certo punto ha deciso di sua spontanea volontà di farsi ma vi ho già detto troppo e spero di avervi incuriositi spero quindi anche che rimarrete nei paraggi perciò ricordate di massacrare il pulsante iscriviti comunque io come al solito spero che anche questo video vi sia piaciuto vi ricordo anche di seguirmi su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao ciao